Cassa Depositi e Prestiti Elite lanciano la prima Elite CDP Lounge. L'iniziativa nasce per accompagnare la crescita delle piccole e medie imprese italiane e si rivolge alle aziende che vogliono accelerare il proprio percorso di crescita sostenibile nel lungo periodo. La Lounge CDP è un prodotto non finanziario che il gruppo CDP offre alle proprie imprese che intendono competere sul mercato nazionale e su quello internazionale. Il programma dura 24 mesi e offre alle imprese tutta una serie di servizi, in particolare un percorso di formazione di eccellenza strutturato con una delle principali business school italiane dedicato al top management delle società per fornire a quest'ultimo la cassetta degli attrezzi per operare sul mercato internazionale e su quello domestico. Un altro importante servizio riguarda l'accompagnamento e l'avvicinamento al mercato dei capitali. Grazie a questo programma le società prendono conscienza e consapevolezza di quelli che sono gli strumenti alternativi al canale tradizionale bancario e in complementarietà adesso potranno cercare di emettere dei prestiti obbligazionali piuttosto che procedere con una quotazione in borsa. Le esigenze che sono emerse durante i colloqui in questi mesi con le imprese sono quelle che noi abbiamo cercato di indirizzare costruendo un programma tailor made. In particolare una delle esigenze riguarda l'aspetto formativo che abbiamo cercato di indirizzare con un percorso di formazione ad hoc e un altro elemento riguarda il reporting finanziario e non. Quindi abbiamo cercato all'interno del programma di inserire advisor e partner che consentono all'impresa di adeguare il proprio reporting a quelli che sono le best practice di mercato e gli standard richiesti per accedere al mercato dei capitali. La prima Elite CDP Lounge è stata lanciata con 18 società provenienti da 11 regioni in rappresentanza di 11 settori. Mi aspetto di essere stimolato. Da questo corso mi aspetto appunto un confronto e quindi un arricchimento. Il programma Elite sia per noi una crescita e uno sviluppo per la nostra azienda e un valore aggiunto che ci permetterà sicuramente di acquisire nuove competenze. Dal corso Elite mi aspetto e già da subito è stato molto stimolante in tal senso che ci aiuti a prendere gli elementi funzionali alla crescita e alla internazionalizzazione dell'azienda. Intanto credo molto nella rete, quindi fare rete, conoscenze, acquisire e poi apprendere tutto ciò che è possibile per quanto riguarda le prospettive di crescita. Noi siamo a completamento su un programma che abbiamo iniziato qualche anno fa con la Big Academy per poter completare quelli che sono sia i piani di crescita che i piani praticamente di passaggio di quella che è la generazione della nostra azienda. E l'ICDP Lounge aiuta le imprese a sviluppare competenze, consolidare i propri piani di sviluppo, ampliare le relazioni con aziende e mondo dell'advisory e accedere al mercato dei capitali privati e pubblici. Parte oggi questa prima classe Elite CDP all'interno della Lounge Elite CDP con 18 nuove aziende provenienti da 11 regioni e 11 settori diversi. Queste aziende si vanno ad integrare in un network pan-europeo essendo Elite parte del gruppo Euronext e queste aziende andranno a trovare competitor, peers e altre aziende con cui confrontarsi, trovare il modo di far crescere la propria azienda anche utilizzando gli strumenti della finanza alternativa quali emissioni obbligazionari, private equity e, visto il palazzo in cui ci troviamo, ci farebbe molto piacere poterli accogliere un giorno all'interno di Borsa Italiana.